Faccio vedere, questo è, eccolo qui, un tweet di Roberto Gualtieri in campagna elettorale che dice tre cose, dice che non si farà il termovalorizzatore, è una cosa obsoleta. Dice che comunque la legge della Lazio ha una legge che va contro il termovalorizzatore e dice un'altra cosa, non serve a Roma, faremo altri impianti, nuove tecnologie, lo dice lui in campagna elettorale, allora dovrebbero stare con noi, consegniamolo a Corbucci, lo porterà al sindaco e gli dirà guardi che sei sbagliato perché... Questo eccolo, lo inquadriamo un attimo. Corbucci questo è, io glielo do, prego, l'ha portato il suo collega, io ambasciador, me lo sa benissimo, prego. Lo prendo volentieri.